Carte dei sentieri di Liguria Monte Rosso è il più grande paese delle cinque terre, i cui primi ceni storici risalgono al 1201. Il paese è diviso in due parti da un promontorio, da un lato la zona di Fegina con la stazione ferroviaria e dall'altra il Porto Vecchio. La zona del Porto Vecchio è piena di carruggi, tipici vicoli stretti della Liguria, dove si possono trovare enoteche, ristoranti, focaccerie e gelaterie. La spiaggia di Monte Rosso è la più estesa delle cinque terre e si possono trovare parecchi stabilimenti balneari. La chiesa di San Giovanni Battista è del XIII secolo, poi ristrutturata in periodo barocco. La facciata gotica del 1307 a bande orizzontali possiede un magnifico rosone in marmo bianco di Carrara. Sul colle di San Cristoforo sorgono il convento dei Frati Capuccini e la chiesa di San Francesco. Al loro interno sono costruite opere d'arte di notevole rilevanza storica ed artistica, come una crocifissione attribuita al Van Dicke, un San Girolamo penitente del Cambiaso e diverse opere del Capuccino Bernardo Strozzi. Nelle vicinanze si trova il castello dei Doria di cui vediamo le mura. Nelle vicinanze si trova il castello di San Giovanni Battista.